ciao a tutti e bentornati qui sulla morgrond ok allora puntata precedente abbiamo fatto un po di roba abbiamo guardato anche quanto zucchero abbiamo quante barbabietole sono venute fuori se non l'avete visto sotto in descrizione c'è la playlist con tutti con tutti i video con tutte le puntate della morgrond e ci sono anche quelle due o tre che abbiamo fatto sulla barbabietole c'è anche la penultima dove abbiamo visto quante barbabietole abbiamo prodotto sul campo 15 perché però l'abbiamo qualcosa leggermente di più abbiamo qualcosa in più di due milioni e mezzo di 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 roba che è venuta fuori allora vediamo un po sta fresa qui no allora siamo sul campo 1 è venuto fuori abbastanza roba spero che questo vediamo un po fammi vedere no penso proprio di no ma sta cosa quant'è 9 e 6 e allora lei e allora lei questo mi fa direttamente anche l'andana così che allora erba per adesso non me ne serve perché come avete visto abbiamo tantissime balle d'erba l'unica cosa che posso fare con questo è allora fieno non me ne serve neanche sapete cosa facciamo facciamo un po di facciamo un po di biogas con questo qua dai tanto ce l'abbiamo è un peccato buttarla via biogas produce tantissimi soldi il che significa che andiamo a guardate lì che c'è il nostro primo carico di mais bene bene maise 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 ok allora vediamo cosa c'è mi serve un trattore ragazzi uno questo no tu andrai bene anche se tu sei di scarso cavallaggio rispetto a quello che mi serve però quello grosso parcheggiato lì con il rimorchio tu sei ma lo facciamo così accendio ma era accenso forse lo spendo ne sia ragazzi sul raffreddore non è che mi fa granché bene a te già che la testa era quella che era siamo un po così così non è che eravamo al cento per cento con la cervicale però il raffreddore ci ha massacrato definitivamente e ci sta massacrando ancora adesso due balle allora ho un po di ah sì 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 mi ricordo adesso ce l'ho lì in nel parcheggio eccolo dov'è non so quant'è quant'è 40 litri quando ne prende buh bene prende 10 litri ce n'è ok allora andiamo sul campo 1 così che sostituiamo i due trattori ci metto quello grosso attaccato a lui qui e il piccolo questo qua lo lascio attaccato lì con il rimorchio per la lama così che dopo lo trasferiamo sull'altro campo che adesso non mi ricordo quale c'è qua mi ricordo non so qual è ma non mi ricordo il numero ma vabbè nothing is not important che c'è qua ah che due balle allora allora visto questo comunque è un periodo abbastanza tranqui morto no dedichiamoci due minuti anche ai percorsi perché mi stanno rompendo un po' le balle allora campo 1 fresa questo apri il course editor andiamo un'occhiata vediamo un po' allora non qui specialmente i primi giri perché vengono a volte così storti che tipo questo no perché aspetta e questo mettiamolo dritto perché devi far così anche qua dritto se è vero che dopo quando vado a raccogliere un po' d'erba qualcosa mi rimane qui vabbè ma me ne frego questo va bene qua allora perché tocchi di là perché mi vai in quella direzione quando non c'è neanche bisogno allora forse era meglio toglierlo non lo prendi così non è che l'aveva preso ok adesso l'ha preso allora mettiamoci così allontaniamoci proprio completamente dal un po' dal bordo non saranno quei 10 cm di erba che mi rovinano qui ce la farà a buono lo so allora facciamo così allontaniamoci un pelo dagli alberi che sono quelli che rompono un po' di più questo facciamo un bello tondo ok quello che è importante è cambiare un po' i percorsi di quelli esterni no perché sono quelli che vengono un po' sempre storti perché prende se la mappa sotto del percorso è storto così lui va in automatico a si mette storto però allora addrezziamo un pelo fatto una volta dopo non ci dovrebbe dare più fastidio guardate anche qua il punto di partenza mettiamolo in linea ok 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 qua com'è spostiamo un pelo anche questo e direi che per adesso va bene poi se troveremo qualche altro errorino che ci rompe lo andremo a modificare ma per adesso direi che va bene anche così sarebbe da fare anche la seconda fila però sono quelli che disturba meno perché comunque non ci sono gli alberi e con questo addirittura dobbiamo stare anche attento perché c'è anche il percorso a vuoto siamo un pelo più attenti ok basta non tocco più niente perché non voglio andare a rovinare tutto ok carichiamo di nuovo il percorso a lui qua perché le modifiche vanno fatti solo quando non sono caricate su un mezzo perché altrimenti non li prende ok ma vedete ci siamo allontanati un pelo dall'albero così non rompe allora quello deve essere scaricato dov'è il mio aiutante sono fermi precisi oh guardate un po' dove va si è incrashtonato contro l'albero se la fai uscire così? no non ce la fa però così ce l'ha fatta allora vedete questo qua ha poca potenza perché sia uguale a quello però questo è il la versione più piccola di questa serie qua che è il 711 questo non sbaglio ha 100 cavalli una cosa del genere allora attaccarci questo rimorchio gigante qui non ne vale la pena già fa fatica a vuoto un momento figuratevi se nel momento in cui fosse pieno cosa succede e quasi quasi se mi fa tanto mais si avevo detto che non volevo fare il l'insilato però se mi fa tanto mais se già l'altro campo quasi quasi questo potrei anche trasformarlo in insilato visto che questo non è tantissimo ma adesso ci penso vediamo quanto mais viene fuori perché voglio andare a comprare un 50-60 maialotti a proposito devo portare anche la roba alla alla produzione del cibo del cibo per i suini no? allora facciamo una cosa tu per adesso ti parcheggi qua gli facciamo fare almeno un paio di giri così non dà fastidio ok ok allora modifichiamo questo gli facciamo fare due giri alla produzione come si chiama quella produzione che me la dimentico sempre photo production ok allora photo fabric consegna gli facciamo fare due viaggi così scarichiamo direttamente il mais direttamente dentro la nostra produzione così mi rimane da portargli solo ed esclusivamente un po' di patate sapete cosa vi dico che adesso questo qua lo scarico dentro al mio silos e poi vedo scarichiamo un po' secondo me prenderà un mille qualcosa infatti neanche forse li ha presi adesso me lo scarico dentro al silos e dopo aspettiamo un paio di mesi e dopo li riporto questi qua no no mi servono aspetta ma una volta funzionava anche con le barbabietole no? solo cartoffel vuoi tu? razione mista mi fa le barba da zucca cioè con fieno e paglia un po' di insilato mi fa barbabietole da zucchero no che cacchio dico totale razione mista ma quello non ho bisogno cibo per i suini ho bisogno di questa roba qua mais orzo è un orzo per il momento è colza mangime minerale mi serve perché mangime minerale mi serve che devo fare lo devo portare alla stalla mi serve anche quello mi sa che porterevo un po' di materiale a sta cosa qua però ho bisogno di avena e barbabietole e zucchero vabbè allora andando a vera non ne ho e la devo andare a seminare va bene non è che per caso c'è qualcuno che può fare una missione con l'avena mieditura vediamo mais mais e mais solo mais si effettivamente se vado a vedere i giorni di raccolta dell'avena siamo a luglio noi siamo a fine novembre vediamo come si è messi dai intanto qualcosa gliela posso pure portare non è un problema allora portiamogli tutta la roba che ci serve e poi quello che rimane fuori glielo porteremo nel momento in cui ce l'abbiamo allora visto che l'ho notata qua perché avevo comprata anche questa ma non funziona o per meglio dire funziona però se la metto sul pick up non riesco ad allacciarla e la perdo l'ultima volta l'ho cercata per un'ora non riesco a venderla quel bagaglio lì allora aspetta un attimo che la vendiamo in questo modo no qui dove ce l'ho in varie no dove la trovo qualcosa lì secondo me così no non riesco a tirarla via perché 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 scusa se sono qua non lo trovo cos'è non posso venderla qualcosa qua vabbè metterla qui adesso poi ci guardo ok oh questo è iniziato benissimo questo facciamo aspettare un po' ok allora portiamo questo in magazzino e poi iniziamo a caricare un po' di roba le patate un po' di frumento e un po' di colza poi quando un po' di roba in più poi vediamo i maialotti qua metteremo qui dei maialotti tanto la cosa buona dei maialotti che hanno una riproduzione molto molto veloce con 60 maialotti in 3-4 mesi siamo già a 100 se non di più è vero che dopo dobbiamo dargli da mangiare tutto il suo materiale poi dovremmo trovarlo adesso vedo come facciamo ok un altro po' avanti per fortuna che il magazzino che abbiamo qua prende un po' tutto almeno e allora patate facciamo due viaggi di patate no facciamo un viaggio perché ne abbiamo solo 59 gli portiamo solo questo viaggio qui i due viaggi di mais allora la maggior parte della produzione cosa vuole lui per il cibo qui vuole patate 1000 1400 di mais che significa che siamo circa un terzo un po' più di un terzo che significa che a mais gli bastava anche solo un viaggio adesso torniamo a spostarlo ma secondo me non l'ha ancora fatto no perché siamo a mais no 21 ancora non ha fatto neanche il primo allora aspetta un attimo se esco di qua altrimenti mi perdo un'altra volta la mia produzione è qui ok lì vicino al campo 20 beh piano 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 siamo arrivati alla settantesima puntata mi sembra una cosa del genere prima che ho imparato le strade su sta mappa qua e ancora adesso in certi punti non è che ma questo io la colpa la do ad autodrive perché visto che autodrive fa tantissimo e noi non almeno io non percorro tante volte le strade da un lato siamo un po' giustificati però non è quella proprio la cosa giusta cioè io vi porto 40.000 di patate avrei bisogno di 12.000 aspetta sì diciamo che un terzo direi che intorno è 12.000 bastano 12-13.000 ma gliene porto un coso intero che significa che per adesso sono a posto almeno di mais poi dall'altra roba gliene portiamo anche un po' meno tanto non ha bisogno di chissà quanto materiale allora ok questo è fatto abbiamo bisogno di frumento colza e per il mancime minerale no allora frumento e colza e per il mancime minerale abbiamo bisogno dei barbabietole che adesso ci arriveranno dallo zuccherificio abbiamo bisogno di un po' di fieno ma il fieno ce l'abbiamo già dentro qui siamo a posto e un po' di paglia adesso andiamo a prendere un po' di frumento e un po' di colza e un po' di paglia allora qua facciamo di nuovo la vista interna perché altrimenti è un casino non si vede niente questi alberi allora questo qua cos'è 11.000 di colza penso che per adesso bastino tanto non ne vuole tantissima colza ne vuole solo 200 ogni 1000 porteremo come frumento gliene porteremo un 20.000 e dopo facciamo anche un giro di paglia così che queste cose le abbiamo finite poi quando pronte metteremo ci porteremo tutto il resto di cui ha bisogno per adesso per adesso non ce li abbiamo non lo facciamo mi sono conservato un po' di frumento perché ne avevo 29.000 ma un po' mi serve anche per le galline adesso ne poto 14 tanto per adesso è solo per metterla in funzione nel momento in cui andiamo a seminare andremo a seminare anche di nuovo il frumento sappiamo che dobbiamo seminare frumento e avena queste sono le due cose principali di cui abbiamo bisogno per mettere avanti le due produzioni e altra roba non me ne serve più andremo a fare sicuro altro bel campo di colza bello grande probabilmente andremo sul 15 con la colza così abbiamo un po' di colza che ci servirà sia per questo che per l'olificio no l'olificio prende la colza si colza girasoli un assieme di soia un bel ricordo adesso vediamo allora cariciamo la paglia perché se la paglia la paglia la paglia ce l'ho qui 37.000 pensavo ce ne fosse di più pensavo che di averne di più ma vuol dire che è questa allora mentre lui carica perché è lento 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 mettiamo visto che sono già qui in funzione questo ok allora si allora campo 1 questo scariciamo in biogas dove è biogas no qua no dove è biogas biogas silo 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 1 iniziato dal primo andiamo ad attivare qui solo la consegna ok ok questo è attivato attiviamoci anche questo non ci dovrebbe essere in mezzo niente spero non lo so andiamo in una controllata che forse è meglio prevenire meglio che curare no attaccani uno solo uno per adesso ma no aspetta adesso altrimenti non riesco ad alzarlo adesso prima devo slacciare di nuovo allora alza attacca che campo è l'altro erba 13 non contro l'albero e cosa avevo detto io andare contro l'albero è l'albero secondo me abbiamo fatto una menza cavolata aspetta dove sei? beh non era arrivato neanche all'80% per quello non andava a scaricare vabbè adesso questo scarica tutto facciamo un unico viaggio per la nostra produzione di di cosoli e poi cosa ci manca? aspetta che gli porto anche la paglia visto che abbiamo già fatto il pieno pensavo di avere molto molto più paglia pensavo male sono le 10.07 oh funziona pure l'orologio che abbiamo sul monitor qui del trattore 10.07 e anche sul trattore 10.07 spero che hai visto che c'è il rimorchio dietro attaccato però lavorare con la vista esterna non sarebbe neanche male ci vorrebbe il volante il joystick quello proprio laterale e poi ci vorrebbe anche il l'eight tracking una cosa del genere quello che attacchi sulla testa e in base a dove giri con la testa si gira anche la visuale però non so quanto costa ma mi sembra un po' una spesa quasi quasi inutile almeno per me io non l'ho mai provato vedo tanta gente che lo usa non so ok allora vediamo un po' per il cibo per i suini le patate li abbiamo portati il maestro adesso ne arriva l'orzo e la colza gliel'abbiamo portata sì poca ma gliel'abbiamo portata per invece il mancino minerale questo c'era cioè il feno c'era la paglia gliel'ho portata adesso l'acqua c'è manca solo un po' di avena e un po' di barbabietole da zucchero che quello però aspettiamo un po' che viene prodotto dalla nostra produzione adesso il trattore è in arrivo no abbiamo spazio allora torniamo indietro diamogli una lavata perché fa schifo e dopo vediamo cosa c'è da fare io quasi quasi sapete cosa faccio che metterei avanti nel momento in cui potrei mettere avanti anche la trinciatrice per iniziare i lavori sul 6 ma vediamo 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 cosa c'è da fare prima così il mais quello me lo prendo da lì quello è venuto a fare il giro attraverso la fattoria ok lavatina e mentre io lavo qua i miei trattori ragazzi vi ho appuntamento ai prossimi video sempre sul mio canale sempre alla stessa ora e sempre qui sulla Morgon un salutone ciao